Qual è l'origine del progetto della misurazione del benessere a livello internazionale e perché si è sentita l'esigenza di avviarlo? In realtà tutto parte dieci anni fa quando a Palermo organizzai il primo forum mondiale dell'Ocse su statistiche e conoscenze politiche e lì scoprimmo un vero e proprio movimento mondiale che non era emerso di iniziative in giro per il mondo per tentare di andare oltre il PIL e misurare il benessere delle persone. A quel punto fondammo il progetto globale sulla misurazione del progresso delle società e poi attraverso i forum che si sono succeduti, altre iniziative come la commissione Stiglitz, Senfitussi e anche iniziative a livello politico come quella di oltre il PIL della commissione europea, si è riusciti a convincere non solo gli statistici e non è stato facile ma anche direi la comunità internazionale, i media ad andare in profondità su questo tema. Ormai oggi la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale sono parole che vengono declinate continuamente anche nel lessico politico. E' molto importante quindi che l'Italia abbia realizzato questo progetto che è considerato uno dei più avanzati al mondo ma ora il tema è come trasformare questa misurazione in politiche concrete. Questo è il passaggio che va ancora fatto, ci sono dei casi in giro per il mondo da cui si può imparare, spero che l'Italia faccia questo salto.